Gli anni ce lo vedo sereno, anche se naturalmente un po' potrebbe essere condizionato tutta questa faccenda oppure è condizionato, perché un ragazzo è un ragazzo giovane, quindi potrebbe essere normale questo non significa che non giocherà o viceversa, quindi le mie scelte verranno dettate a quello quello che in questo momento penso sia meglio per la squadra e l'azione avversaria